Un anno fa abbiamo detto che inauguravamo la scuola edile. Oggi noi abbiamo messo le ruote all'aula. L'aula la porteremo in tutti i posti di lavoro, raggiungeremo tutti i lavoratori, formeremo e faremo in modo che tutti i lavoratori siano informati sulla loro sicurezza in modo che possono prendere le varie cautele affinché non si facciano male e tornano a casa sani. La sicurezza è uno dei due pedestali della nostra categoria. Uno è il lavoro regolare e l'altro è quello della sicurezza. Il lavoro regolare l'abbiamo inquadrato e superato con i DURC, quello del 2014 e quello di concretà. Quello della sicurezza la stiamo affrontando bene e l'obiettivo è quello di zero morti sui posti di lavoro. Negli ultimi cinque anni Fenea, Ficca e Fillè e Ance hanno deciso di mettere a posto gli enti della provincia di Latina. Abbiamo cambiato registro, abbiamo portato all'interno dei giovani con il nostro direttore, dottor Vaudo, con idee e capacità, come si dice, poi di realizzare i progetti. Oggi noi abbiamo investito in un'unità sanitaria dove andiamo a fare le visite preventive e quelle obbligatorie su tutti i posti di lavoro. Questo crea vicinanza alle imprese in quanto si razionalizzano i costi e crea certezza ai lavoratori. Voglio soltanto fare una piccola riflessione. Il lavoratore di Sonnino che va a attaccare il lavoro alle 5 della mattina e ritorna a casa alle 6 di sera, il medico di base non lo vede per tutta la sua vita perché alle 6 il medico di base va a casa. Noi in questo modo gli facciamo un check-up che lui è in condizione di essere allarmato in modo che si mette in movimento. Io penso che abbiamo fatto un grande servizio sociale ai nostri lavoratori, ai nostri cittadini. Grazie a tutti.